Più cioccolato fa bene alla linea, a suggerirlo una ricerca dell'Università di San Diego su un campione di mille persone. I barba all'alto contenuto calorico, i consumatori più assidui hanno dimostrato una maggiore facilità a perdere peso. Attenzione a non esagerare, mettono però in guardia i ricercatori a contare la frequenza, non la quantità.